Musica Bella a tutti ragazzi, qui oggi è stato di sta parlando, oggi sono qua con un nuovo video su Watch Dogs Oggi andremo a parlare di un easter egg inerente a una serie Ubisoft che io personalmente da piccolo ho amato Ossia Rabbids, quindi non perdiamo molto tempo e cominciamo Allora ragazzi, per notare questo easter egg dovrete recarvi nel quartiere Pony Guardate la mappa e seguite la strada che io faccio Comunque dovrete arrivare davanti a un bar che si trova precisamente di fronte al molo Entrando dentro questo bar, sul bancone noterete un pupazzetto di un coniglietto Dopo dovrete entrare dentro, superare il barista e guardate sulla sinistra, troverete questo pupazzetto Hackerandolo tramite il telefono lo attivirete e lui comincerà a parlare Questo giocattolo si può trovare in moltissimi bar sparsi per la città ma anche dentro le idicole Quindi ragazzi il video è già al termine, spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile Vi rispondete lasciare un piaccio e un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se non è ancora l'ora di fatto Seguitemi su tutti i social che trovate qua sotto in descrizione Noi ci becchiamo prossimamente con altri nuovi video, bella!